Due giornate alla mostra ad oltremare per ragionare di sicurezza urbana, confrontare le strategie e le prassi operative e informarsi sulle nuove tecnologie. Giovedì 24 e venerdì 25 maggio, al convegno Napoli-Secure City, si discute di politiche della legalità, di riqualificazione delle aree degradate, di lotta al disagio e di mediazione dei conflitti sociali, attività su cui i comuni sono impegnati in prima linea. La sicurezza del territorio non è fatta solo di azioni repressive, come ha sottolineato l'assessore Narducci ad apertura dei lavori, ma anche di prevenzione, cultura della legalità, rafforzamento del tessuto sociale. La sicurezza urbana è un tema che riguarda i diritti. Con grande fatica io credo che Napoli dei risultati nuovi ce l'abbia, ad esempio dal punto di vista del sistema di videosorveglianza di sicurezza con il completamento del sistema che recentemente è stato collaudato dopo la sicurezza del 2007-2013. Per esempio oggi Napoli, per quanto riguarda le telecamere di sicurezza, è al primo posto nel meridione d'Italia. Al convegno partecipano amministrazioni e rappresentanti delle polizie locali del centro-sud. Fra i temi delle due giornate, le attività di polizia amministrativa dopo il decreto Monti, la riforma del contenzioso per le violazioni al codice della strada e la nuova disciplina delle patenti di guida.